musica 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 benvenuti a tutti ragazzi benvenuti a questo nuovo video sono sammp3 e oggi giocheremo a youtubers live oggi vi farò vedere la mia la mia partita apriamo la partita mia cosa che cadono a terra dando il caricamento da notare 32 33 35 50 60 100 ok raga mi arrivano pacchi ah ora vi spiegherò tutto un gioco ah queste qui sono questa è mia moglie ci siamo sposati ah compro il tablet ah si lo so che io sul tablet va bene questo è twister questa è mia moglie questi sono i soldi che e diminuiscono perchè ora devo andare a lavorare se no mi uccidono perchè fra l'abbonamento dico di quindi mi fanno la multa e perdo tutto il mondo non mi è successo una volta i miei scritti se ce l'hanno con me non 10.000 ma ce l'hanno con me va bene non facciamo gli stupidi andiamo avanti vediamo vabbè non ci interessa mangiamo mangiamo come se non ci fosse un domani e poi dormiamo vabbè quello ho fatto se lo mangiare non ne lo mangio in questo modo vabbè poi ripariamo il computer no perchè ho fatto qui che si possono fare dei corsi questo non è una stanza questo qui sono dei vestiti proprio che ho comprato io alcuni che li ho vinti invece questa è una limonata che è veramente della coca cola però va bene ok prendiamo qua facciamo riparare non me lo fa pagare perchè me lo dovrebbe fare pagare 20 dollari 20 soldi bu non so come dire e ora sono riparata solo perchè io ho fatto due costi per riparare un computer quindi lo fa da solo ora facciamo aspetta vediamo 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 giriamo se io dovrei avere un computer non avevo il computer nero ok va bene facciamo un nuovo video però col t ok litigato col tuo computer quello non è mia moglie quella è un'altra ragazza che c'è sempre con me con qui no no nessun tipo si funziona non c'è con la mamma tranquillo vediamo scegliamo un gioco via 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 guarda facciamo questo gioco per la PS3 facciamo questo gioco per la PS3 anche la PS3 per dire ce l'ho però gioco ora voglio accedere, qui c'è la PS3 però si bug ecco, ora c'è vabbè, li entro no è sbagliato dunque ragazzi per vedere qui c'è scritto quello che devo schiacciare vediamo guarda assassino ah, voglio ammazzare il borsone vediamo questo qui vabbè, facciamo l'intro, dai eh, eh, va bene commenti però che vuoi non me l'hai dato questa cosa qua ok, sono di semplice guardare il borsone in maniera ok, gli amici sono di semplice il borsone m il borsone il borsone diciamo come si lo o è k quanti testo un video questo costo si 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 subito subito ora potrei registrare se non vedo alcune cose con i miei amici scontatti mia moglie si chiama Greta vabbè ragazzi io penso che per questo video possiamo concludere e ce l'ho qui le console oh ecco no ci vuoi giocare dai ma io non neanche dovevo mettere tutte le sue console qua pensavo che le vendeva ma io non vendo i tablet quindi inutile vabbè vabbè ragazzi noi ci vediamo per un prossimo video alla prossima